cominciano le prime sospensioni senza stipendio dal posto di lavoro per gli insegnanti e il caso di antonietta lembo docente cilentana residente a monte corice che ha scritto su facebook una lunga lettera ai suoi alunni spiegando le sue motivazioni cari alunni e colleghi da domani sarò sospesa dal servizio perché lo stato italiano mi vieta di poter lavorare essendo un'assassina una ladra una delinquente no essendo una cittadina docente che ha usato la propria testa la propria coscienza e non si è piegata a un obbligo che non ha niente di scientifico ma che è un vile ricatto politico penso di essere stata sempre una cittadina che ha rispettato la legge di dio e degli uomini ma penso anche che quando una legge ingiusta vada combattuta per garantire anche la libertà delle future generazioni non riesco più a entrare in classe col sorriso e parlare della costituzione italiana mi sento una bugiarda ed un illusionista non riesco a guardare in quegli occhi che ti osservano analizzano e mettono a nudo la tua anima meglio di qualsiasi psicologo gli alunni sanno quando menti e quando non credi a quello che dici pertanto voglio risparmiare questa umiliazione a me stessa non chiamatemi novax ripetendo slogan di stato largamente utilizzati dalla stampa prezzolata dimostrereste di non ragionare con la vostra testa ma di essere come quei pappagali bravi a ripetere il suono umano senza capirne il significato ripeto non sono una novax perché ho fatto tutti i vaccini così come li ho fatti fare a mia figlia sono soltanto una che si pone delle domande su sostanze sperimentali che non prevengono il contagio e sono pericolose per l'organismo umano non lo dico io ma virologi degni di questo nome e medici che hanno una coscienza a cui rendere conto concludo dicendo che mai e poi mai ho messo in pericolo la vita dei miei alunni facendo il tampone ogni 48 ore indossando sempre una mascherina ffp2 naturalmente il tutto a mie spese rimarrò sempre una docente che ci sarà per voi e sono a disposizione di tutti gli alunni che abbiano qualche dubbio o bisogno di delucitazioni su argomenti di studio basta telefonarmi la consulenza è gratuita ora insieme ad altri docenti appartenenti alle forze dell'ordine e sanitari sarò sospesa senza stipendio mentre ai peggiori delinquenti danno un assegno alimentare confido nella legge divina non in quella umana intanto siedo pacificamente in riva al fiume ad aspettare che le cose cambino conclude così antonietta lembo la docente cilentana residente a monte corice sospesa dal servizio